Stiamo salendo sulla Tura Fella. Finalmente, finalmente ragazzi, dopo tanto tempo, finalmente saliamo sulla Tura Fella. Vediamo la partenza, vediamo la partenza, ragazzi partenza, ragazzi partenza. Guardate qua, ragazzi, guardate, guardate, guardate. Guardate come stiamo salendo sulla Tura Eiffel, incredibile, solo Jackie Chan nell'ultimo di Rush Hour è salito qua sopra a combattere la Villa Lumiere, incantevole. Guardate, si vedono anche il bartello Mouche, là sotto, tre ore di coda per salire sull'ascensore. Com'è bene? Si è fermata l'acqua. La seconda flora è sempre il secondo piano, dove si vedono praticamente tutti i più belli monumenti di Parigi. Lo potete vedere solo la mia bocca che si muove, perché è molto vicino. Da qua si vede anche la Tura Eiffel. Si vede la Tura Eiffel, da qua, Simo, nel secondo piano si vede la Tura Eiffel. Io, io, io. Vio, vio. Jackie Chang dov'è? Questo è il secondo piano Guardate un po' Guardate che meraviglia Guardate che meraviglia Guardate che meraviglia Guardate che meraviglia Timone, che dici? È bellissimo Posso dire, ragazzi È meglio la Sicilia o meglio la Tour Eiffel? Guardate sopra Ma devo dire che la Tour Eiffel da qua non si vede Non la vedo Si vede da un po' non si vede la Tour Eiffel Qua si vedono tutti i monumenti di Parigi Guardate, la si vede il Pompidou La si vede la Batello Mouche Qua si vede la Piazza della Concorde Versailles si vede lontano Eh adesso facciamola Ciao Ciao La sai la geometria? Ciao Ciao Sempre lì Sì Sì